Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui con un nuovo pack opening che era da un po' che non lo facevo cioè mi sembra che l'ultimo è stato della Bundes adesso faccio un pack opening perché ci sono tipo 4 tots più il team of the week disponibili cioè serie A, Ligan, Benelux, cioè Belgio e... come si chiama? Olanda e resto del mondo più il team of the week quindi ci sono un sacco di carte da poter trovare però ci sono pochi pacchetti, nel senso ci sono solo questi qui interessanti da 12 rari proviamo ad aprire una decina di questi pacchetti che tra l'altro scadono tra poco e vediamo se riusciamo a trovare qualcuno oppure siamo proprio degli sfigati clamorosi ultimamente perché era cominciato bene e poi veramente male 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 comunque andiamo a partire con questo primo pacchetto comincio sempre a lasciare un bel like preghiamole mai anche se non è mattina quindi non so quanto possa portare bene però troviamo subito un De Jong che non vale un cazzo però è comunque un giocatore team of the season quindi uno l'abbiamo trovato sta tipo a 20.000 crediti quindi niente cioè praticamente ci siamo solo ripagati il pacchetto però comunque va già bene quindi sulla falsariga di questo primo pacchetto andiamo con il secondo continuiamo a sfregarci le mani e lasciare un bel like perché mi sento porta bene potrebbe portare bene infatti in questo secondo trovo un Felipe Luis che non è male però vabbè ce l'ho già quindi non mi frega più di tanto andiamo con il terzo pacchetto altri 25.000 così proprio a sbaffo proprio sbeffeggiando noi continuiamo a sfregare perché potrebbe ma dai Brahimi non mi serve che però tra l'altro poteva starci nel team of the season ah Pabon ma Pabon non è team of the season no e lo è stato mi sa allora non lo è più oh mio dio che brutto questo iniziato bene e adesso sta andando male vediamo con questo credo quarto pacchetto già non mi ricordo più però comunque sono segnati quindi vediamo di trovare Adler carta abbastanza inutile di Barbo non ci serve cerchiamo di non sperperare troppi crediti inutilmente vediamo di trovare un giocatore serio un giocatore che ci faccia esultare come pochi troviamo un TT un altro team of the season anche se vale poco però comunque si è sempre un giocatore blu e quando noi vediamo blu ci brillano gli occhi vediamo quanto sta ma penso relativamente poco beh 40.000 non è tantissimo ma non è neanche pochissimo sempre meglio di dell'altro blu che abbiamo trovato continuiamo così che anche se troviamo giocatori un po' di merda comunque sono sempre giocatori blu vediamo con questo nuovo pacchetto dovrebbe essere tipo il sesto o il settimo qualcosa del genere sbustiamo un Rossi che non serve a un cazzo con tutti i giocatori della serie A Tots che ci sono io vado a beccare proprio quelli che sono sempre infortunati come Pepito Rossi ed escerà vediamo in questo nuovo pacchetto chi troviamo Untlar 84 potevo trovare qualcosa di meglio mancano ancora raga tre pacchetti tre pacchetti proprio swag e poi basta gli altri 10 li lasciamo lì perché tanto non voglio sprecare troppi crediti andiamo con questo nuovo pacchetto e speriamo di trovare di essere con la pancia piena in questo nuovo pacchetto troviamo Rakitic che è stato man of the match fino a tre secondi fa invece io lo trovo quando non serve a nulla e continuo a trovare gente che non uscirà mai in blu ultimi due pacchetti andiamo proprio così velocemente senza perdere tempo tanto quello che dobbiamo trovare lo troviamo e se troviamo merda dobbiamo trovare merda se dobbiamo trovare merda troviamo merda troviamo giocatori pessimi un altro LSTN ne abbiamo trovato 25 raga questo è l'ultimo pacchetto io lascio giù il joystick questo è l'ultimo pacchetto per trovare un giocatore decente poi penso che non farò più pack opening perché comunque penso che i team of the season sono finiti e quindi non ha più senso aprire pacchetti da qui in avanti quindi questo potrebbe essere l'ultimo pacchetto che aprirò in video di FIFA 15 quindi speriamo di trovare qualcosa di decente lasciamo giù il joystick se c'è una giustizia divina mi farà trovare qualcuno di buono e infatti trovo Maxwell ma non è molto buono però è comunque un team of the season e quindi siamo a quota 3 in questo pack opening e quindi va anche abbastanza bene dai poteva andare peggio del tipo che non trovavo niente troviamo anche uno Starridge Maxwell che penso che non varrà proprio nulla però vabbè 40.000 quindi 40 40 e più 20 sono tipo 100.000 alla fine beh sì ci ho perso un bel po' di crediti però vabbè fa niente non non va bene comunque quindi raga il video finisce qui almeno 3 li abbiamo trovati anche se praticamente sono i 3 peggiori che potevamo trovare però vabbè l'importante è trovare i giocatori blu come sempre mi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi sapere nei commenti se avete aperto voi qualcosa e se avete ovviamente trovato qualcosa e come sempre iscrivetevi al canale pagina Facebook Twitter, Instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione ci vediamo al prossimo video bella raga bella